Sono le 4 e 20, siamo pronti? Via! Signore e signori, questo è mio fratello Alfonso, è venuto da me perché ha bisogno di 100.000 lire. Eccole qua, queste sono le 100.000 lire e io le metto qua sul tavolo a sua disposizione. Quindici anni fa, nostro padre, che Dio l'abbia in gloria, ci lasciò in eredità due terreni a Soccavo. Allora, a quell'epoca, la zona non era valutata, però io dissi a mio fratello Alfonso, non te lo vendere questo terreno perché questo terreno fra poco diventerà suo l'edificatorio. E' solo un imbecille se lo venderebbe. E lui invece che ha fatto? Che ha fatto? Me lo sono venduto. E allora che cosa sei? Un imbecille. No, devi dire sono un imbecille. Sono un imbecille. Poverò. E andiamo avanti. Con la vendita di Soccavo, mio fratello ricavò 36 milioni. Oggi, a 15 anni di distanza, non ha più una liga. La prima cosa che si comprò con i soldi di Soccavo fu un abbonamento al calcio Napoli. Domanda. Che tipo di abbonamento si fece? Eh? Curva? Distinti? Tribuna. Tribuna numerata, vuoi dire? E' uno che è un disoccupato e si compra una tribuna numerata. E' o non è un imbecille? Lo è. Quindi tu che cosa sei? Sono un imbecille. Poi, si comprò una 124 Spider. Si non eri Spider, non eri ball. Poi, tra una cosa e l'altra, nel giro di tre anni, si mangiai tutti i 36 milioni. Ma non basta. Io gli avevo procurato pure un posto di fattorino, nell'osservatorio astronomico di Capodimonte, dove c'era il professor Carotenuto, il direttore dell'osservatorio, grande amico mio, che lo aveva preso pure a benvolere. N'è quello che fa? Do le dimissioni. Sì, ti vuoi. Lo deve dire lui. N'è quello che fa? Do le dimissioni. Sapete cosa mi disse? E come, mi tenga a 124 Spider, possa fare mai un fatturino. Turina, come se a 124 Spider fossero utite dei studi. Allora io mi domando e dico, uno, uno, che si perde un posto fisso statala di Caturina, l'osservatorio astronomico di Capodimonte, per una 124 Spider. Ma è, o non è, tre volte imbecille. Per cui io chiedo adesso ufficialmente a mio fratello, Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Non ce l'avrebbe fatto. O c'era troppo nervoso.